Cesco, l'attaccante Francesco Bottieri, Stremato, che bel pareggio. San Marco ha proprio da questa finalissima. Sì, penso che alla fine è quello che meritavamo. I nostri sacrifici fatti dall'inizio si vedevano nelle facce delle persone. L'abbiamo voluto. È il nostro grande domenico, è il nostro portafortuno, tutto, è detto stampa e tutto. Diciamo che questa piazza... Forza San Marco, non è per sempre! Merita il calcio, merita il calcio veramente. A di là dei protagonisti. Un anno di sacrifici. Sì, non è di sacrifici perché veramente non è di sacrifici. Personalmente aspetto un bambino, lo dedico a lui, ma tutte le persone di San Marco ci sono state sempre vicine. Grazie.